con i buoni pasto sto alla cassa del supermercato prima di me c'è una donna che paga con i buoni pasto io la guardo ma lei non mi guarda poi lei ad un tratto mi guarda rimaniamo fissi a guardarci perché commento perché avete alcuni numeri dei vostri codici in comune grazie